L'amministrazione comunale di Cerignola partecipa in prima linea alla costituzione della consulta provinciale per la legalità con altri tre comuni della provincia di Foggia e con 42 associazioni del territorio. Partecipiamo proprio perché siamo convinti che la rete possa dare un proprio contributo al contrasto a quelli che sono gli eventi di criminalità sul nostro territorio. La legalità è importante, bisogna diffonderla soprattutto nelle scuole, nel terzo settore, lì dove si possono costruire percorsi alternativi a quelli invece messi in campo dalla criminalità.